Onna città ferita, onna tra i simboli della memoria di quel tragico 6 aprile 2009. Oggi a distanza di sei anni si vedono ancora le macerie e i map sono le uniche abitazioni che i cittadini hanno a loro disposizione. La visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, diventa una testimonianza di vicinanza, per non essere dimenticati. La visita istituzionale, blindata e scandita da tempi strettissimi, si apre con il saluto ai familiari delle vittime, riuniti in una piazza dove spiccano due bandiere, quella dell'Italia e quella della Francia. E il parallelismo è inevitabile per il Presidente. Sono due tragedie, ma soprattutto perché la volontà degli Aquilani di ricostruire, di ripartire con una vita normale e serena, che speriamo si realizzi nelle condizioni ottimali al più presto, è un segnale per tutti, anche contro chi vorrebbe distruggere la serenità della nostra convivenza in Europa. Una visita silenziosa, nessun discorso istituzionale, solo un saluto. La priorità l'ha avuta la città, Mattarella ha voluto percorrere le strade, vedere le macerie e poi dedicarsi a chi ha vissuto quelle ore di paura. Una visita che ha suscitato sentimenti di solidarietà in qualcuno e di indignazione in qualcun altro che si attendeva più presenza e forse qualche messaggio più diretto. Mi aspettavo un qualcosa di più, cioè intanto una presenza di più politici, una presenza di più persone, e quindi questo è un rimprovero delle persone a livello locale, che però tante persone qui sono anche deluse. Soddisfatta di quello che ha fatto, della visita, delle parole? Le parole non le ho sentite, però mi ha fatto tanto tanto piacere. Perché piacere? Piacere per vedere una persona che è come noi, è simile e non come noi, voglio dire, con tanto rispetto, però si porta nelle nostre qualità di persone. Ad accogliere il Presidente della Repubblica c'erano anche i sindaci del cratere, quelli che più di ogni altro hanno conosciuto la distruzione e la sensazione d'abbandono. Vi siete sentiti dimenticati in questi sei anni? Qualche volta sì, però poi, tutto sommato, le gru dimostrano che la nazione ci avvicina, come tutti gli italiani sanno fare nei momenti del bisogno. Infine un dono che Onna ha voluto consegnare nelle mani di Mattarella, una pietra delle macerie resa scultura, un simbolo forte, pieno di significati, la distruzione, la rinascita, la trasformazione, il ricordo. A distanza di sei anni, adesso, da qualche mese, abbiamo iniziato la ricostruzione. Ancora sono stati fatti soltanto gli scavi, però questo ci dà già la fiducia e la speranza per il futuro. L'arrivo del Presidente ci rafforza questa speranza.